Signore e signori, io sono Surry, questa è Minecraftita, benvenuti. Oggi andiamo in esplorazione, anche se non è una vera e propria esplorazione. Perché? Voglio recuperare un paio, ma anche di più, se riusciamo a trovarne, di questi aggeggini qui. C'è del lanciaspore o come si chiama, insomma, di questo fiorellone incredibile. Non si può craftare, non si può riprodurre, non si può farmare in nessun modo, bisogna trovarne. Come si fa a trovarne? Bisogna trovare la Lush Cave e fin qua ci siamo. Ora, quel sistema di Lush Cave che avevamo cercato in passato, cioè in passato, negli ultimi episodi, era complesso e sicuramente avrebbe potuto concederci altri di quei drop, ma voglio fare un'altra cosa. Voglio andare verso il relitto della barca, insomma, quello che abbiamo trovato. Da lì andare a sinistra verso la palude, quindi dove abbiamo trovato gli slime, che anche lì mi avete fatto notare nei commenti che a una certa mi mancavano due slime ball e lì c'erano due slime enormi e non li ho visti. Non li ho visti, non lo so, perché magari sono concettato su altro mentre gioco, nel senso che io sto guardando il punto centrale e quindi uno poi se lo perde. È diverso rispetto a guardare, poverino, lui non ha più una casa. Lui sta cercando in vano una casa ma non la troverà, mi dispiace. Spero che non venga a piovere che altrimenti il bro muore, tra l'altro, tra le altre cose. Vabbè, quindi ci accingiamo da questo lato e costeggiamo questa foresta, perché da queste parti dovrebbe esserci un alberello con i fiorellini. L'abbiamo incontrato in precedenza e non ci dovrebbe volere molto cheat a ritrovarlo. Una volta trovato quello lì, cos'è che facciamo? Semplicemente ci scaviamo sotto, non era qui, forse era un po' più avanti. Ci scaviamo sotto e dovremmo trovare in maniera molto semplice, non lo so, perché è la prima volta che lo faccio, però mi avete detto che dovrebbe essere relativamente semplice e quindi noi ci fidiamo. Non vedo alberi con i fiorellini, dovrei vedere degli alberi con i fiorellini. O no, libero della luce perché è dove ho cercato gli slime. Eh no, però c'è un problema, bro, nel senso tu mi avevi detto che... Cioè, non me l'avevi detto, però era tipo un accordo tra di noi, che avevamo detto che sì, tranquillo, ti do l'alberello con i fiorellini, ma io mica lo vedo, anzi, ora è pure diventato buio, non va bene. Allora, proviamo a cercarlo un pochino. Io mi ricordo che era qua, sono convinto. Oh, no, quello è uno zombie. Non so cosa fare per convincervi, però sono abbastanza convinto che ci fosse. Facciamo una bella scorpacciata di esplorazione al volo. Mettiamo la barchetta bella in vista, così sappiamo dove andare a riprenderla. Sono abbastanza sicuro si trattasse di questa zona qui, quindi diamo un'occhiata al volo. Se non lo troviamo, facciamo retrofront e andiamo invece dove sappiamo esserci, una Lush Cave, cioè dove eravamo in uno degli ultimi episodi, per l'appunto. Io però non voglio neanche addentrarmi troppo, perché non era così lontano. C'era proprio un bel alberello. Poi si notava subito perché era un albero normale, con i fiorellini. Eccolo, trovato. Hai visto che alla fine è facilmente riconoscibile? Andiamo dritti di là. Poi la barca, vabbè, la ritroviamo e se non la ritroviamo ne facciamo un'altra. Eccolo. Allora, se qui sotto c'era Lush Cave, ammazziamo questo zombie, così siamo liberi di scavare. E iniziamo... Questa terra cos'è? Rooted dirt? Ma allora sei un grande. Cioè, anche la terra diversa, c'hai? Non lo sapevo mica. Interessante. Ora, a livello estetico non ci serve molto, però magari, in futuro, potremmo capire che questa terra... Cioè, me lo scriverete voi nei commenti, palesemente, e capiremo che questa terra serve a far qualcosa. Immagino. Ora mi arriverà uno zombie addosso. Palese. Dai, dai. Ci sono. Non ho paura. Ah, quanti siete, maledetti? Uno, due, tre. Oh la madonna, quanti siete davvero. Oh, che cazzo è? Tutto l'esercito? Ok. Un botto di straterriccio qui. Ehm, va bene. Non ci interessa. Ora, io mi sto fidando di voi, ma... Ci sta come ragionamento. Nel senso, se tu scavi sotto uno di questi alberi, dovresti trovare, insomma, la Lush Cave. Ci credo. Ci sta che sia così. Ma soprattutto troviamo un botto di carbone. Che ci piace? Ci piace come cosa? Un botto. Continuiamo la scaletta, magari? Che dici? Sì, dai. Facciamo così. Allora, finché troviamo questa terra tutta strana, secondo me, stiamo andando nella direzione giusta. Anche perché è molto sporadica, vedi? Non c'è sempre. Però quando c'è, ci dà conferma che la direzione è giusta. Spero. Torcina. Aspetta, noi stiamo piazzando torce. Male, 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 male. Ok. Ok. La situa è un po' più lunghetta del previsto. Però ce la facciamo. O no? Dovrebbe essere... Non vedo più terra. Ma dovrebbe essere qui. Ok. Diciamo che la mia convinzione sta andando piano piano a svanire. Sentivo degli zombie di qua. Non vorrei che ci fosse... Oh. Ok. Non mi sembra una Lush Cave questa. Eccola invece. Fantastico. Allora. Calmi un po'. Mettiamo una marea di torce qui, giusto per capire che è da dove siamo arrivati. Eeeh. Stiamo attenti a tutta sta gente. Ok. Muoni un po'. Quanti siete? Ok. Stiamo attenti. Piazziamo un po'. Allora, carina però. Non mi sembra così enorme. Cioè, più che altro non vedo aggeggini rosa. Eeeh. Piano un po'. Grande esplosione oggi. In quel di Francia. Non è vero. Vai. Vai così. Allora. C'è un Enderman. Ci sono i fiorellini. Io non voglio fiorellini, bro. Cioè, io voglio una sola cosa. Ah, queste sicuramente. Grazie. Che sono simpatiche. Grazie. Piglia, piglia. Un altro. Sì. Giallo. Giallo è bello. Giallo è più raro, giusto? Ora, non so come funziona. No, non me ne ha date quelle. Ripeto, non so come funziona esattamente la questione dei colori. So che ci sono di più rari, di meno rari. Qui addirittura abbiamo dei pesci tropicali. Che è successo qua? Cioè, non capisco. Non dovrebbero esserci dei pesci tropicali, bro. Cioè, va bene tutto, però. Allora. Eeeh. Calma qua. Calma. Allora, vi ho trovato un altro Axel. Che è fantastica notizia, in realtà. Però, non siamo venuti qua per questo. E questa è la legge di Minecraft. Che comunque, in perterrita, continua a replicarsi. Io sto cercando una cosa. Ed evidentemente, cerca di darmi tutt'altro. Qui non c'è nulla. Vediamo da questo lato. Se invece riusciamo a trovare qualcosa di rosio. Sembrerebbe non volerci accontentare quest'oggi Minecraft. È vero, c'è dato l'Axolot. Però, io non volevo quella roba lì. Non la volevo. Finito qui, vuoi dirmi? Cioè, basta. Questo è il... Eh no, così no. C'è un problema. Proviamo ad andare ancora un po' più su. Ho finito le torce. Questo è un grande problema. Questo è un grandissimo problema. Quasi insuperabile. Non so se lo so le dire. Ok. Di là c'è del verde. Non vedo assolutamente niente di verde. In realtà, è tutto oscurissimo. In realtà, io quando gioco, è molto più scuro rispetto all'editing. E quello? Ok. C'è una miniera. Cioè, poi, grazie al cazzo che nei video mi dite, ah, ti sei perso questo, ti sei perso quello. E nei video si vede molto meglio. Ma molto meglio, eh. Cioè, proprio come se ci fosse un altro sistema di illuminazione. Lì non c'è verde. Qua è dove siamo arrivati. Vediamo se riusciamo... Ah, magari qua c'è qualcos'altro, no? Carbono lo prendiamo, certo. E qui non c'è nulla. È tutto abbastanza... Tutto abbastanza tristino, purtroppo. È stata un po' una delusione quell'albero. Speravo che, essendo il primo che abbiamo trovato, ci potesse regalare delle emozioni. E a quanto pare ce ne ha regalate, perché comunque il nostro amico qua, l'axolotl giallino, è bello, è bello, è molto simpatico. Però, voglio dire, poteva andare meglio. C'è un altro axolotl? Una... Ma quanti siete? Roschi! Siete tantissimi! Riesco a fare... Ho del ferro? Ho del ferro. Farei tranquillamente un altro secchiello per prendervi, però. Vi direi che... Non ha molto senso. Bellini? Belli? Però l'unica cosa che posso dire, che siete bellini. Non c'è nient'altro che mi interessa qua. Se non il carbone, ovviamente. Questi sono questi suoni che sento? Sento dei suoni... Non saranno mica i pesci. È impossibile che i pesci fanno questi rumori. Cosa, sta crescendo? Sta morrendo il pesce, è diverso. Top! Ah, guarda, cos'è? Una farm di pesci questa, praticamente? Sta salticchiendo e non ce la fa. Ah, di là si esce? Beh, è comodo. Molto comodo, in realtà. Lo useremo per tornare a casa. E... Allora, vediamo, perché stelle a schif sono sempre un po'... Ce ne sono tante, capito? Quindi non vorrei che ora ci perdiamo una buona... Eh, ma sti pesci tropicali vogliono solo che morire, però... Voglio dire... Un minimo. Dovete anche impegnarvici voi. Un bel saltino. E un'altra mineshaft abbiamo trovato. Eh, vabbè. Qua finisce male. Io te lo dico. Brutto presentimento. Non è vero, eh. Non è un brutto presentimento, però... Ehi! Eh, capito? Capito? Cioè, quando dico che è un brutto presentimento, è perché c'è un po' un brutto presentimento nell'aria. E ho anche quasi finito il cibo. Non stonks. Luce del giorno? Ma sai, quasi quasi... Ecco, che t'avevo detto che ce n'era un'altra. Te l'ho detto. Te l'ho detto. Poi da qua possiamo risalire, però devo scendere. Allora, non ho molto cibo. Come facciamo a scendere? Sicuramente non nella lava. Molto sicuramente. Tu sei un po' un figlio di Creeper. Eh, diciamocelo. Nel senso che se Creeper dovesse avere figlio, eh, potrebbe venire fuori una roba tipo quella. Eh, lanciamoci. Ah, ci siamo già stati? Non ci siamo stati, non vedo luce. Ok, allora. Sarebbe interessante provare a cacciarci lì nell'acqua, ma mi rendo conto che non è l'idea migliore. Facciamo così. Tanto poi il modo per ritornare su lo troviamo. Eh, piano un po'. Ci lanciamo. Allora, cerchiamo di raggiungere l'acqua. Ma buongiorno, tu grande figlio di... Ok. Di qua è dove siamo appena stati, giusto? Esatto, vedo le torce. Quindi poi il modo per tornare a casa lo troviamo. Ci lanciamo qui? Quello è uno zombie? C'è un altro Axolotl? Speriamo di sì. Non credo qua ce ne siamo, però. Lanciamoci di qua. Siamo attenti. Di là continua. Dai. Cioè, io una cosa volevo e qua non me la sta dando. Quindi, patti chiari, amicizia lunga. Molto lunga, se riusciamo. Lanciamo. Tanto ferro. Ma a noi non serve il ferro, bro. Non ci serve proprio. Non so come dirtelo, che noi il ferro... Ce ne abbiamo un po' da parte. Sì, non tantissimo. Ce ne abbiamo. Non voglio neanche pescino tropicale. Io voglio neanche questa roba qui, che ce ne abbiamo già. Dammi un bel fiorellino. Ora che ho scoperto che quel fiorellino lì non si può craftare, non si può farmare. È l'unica cosa che voglio, capito? Scarsità del prodotto. A me sono bravi quelli di Minecraft, eh. Te la fanno annusare e poi dicono, ah, la vuoi? Eh, mo' valla a cercare. Ed è quello che sto facendo, tra l'altro. Allora, questa rotta in flash non ci interessa. Neanche il semino. Fai così. C'è un piccolo ponticello. Eccolo. Eccoci qua. Ok. Allora, abbiamo trovato un altro. E questa cosa è ottima. Ecco perché, vi spiego ora perché è ottima. Ehi! Ah, pensavo di averlo distrutto. E non in senso positivo. Ok. Cioè, dai, un altro? Dai, guarda qua quanto bel verde che c'è. Un altro. Questo? Sempre gialli. Va bene. È pieno, però, eh. Cioè, ci sono proprio tanti. Di qua continua la situa. Qua c'è proprio un lago di lava. Va bene. Cosa vuoi che ti dica? Va bene così. È proprio un po' imboscato qua tutta la situa. Bello. Molto bello. Devo ammetterlo. E qua è dove sono appena stato. Sto girando in tondo. Incredibile. Vediamo il ferro. Dobbiamo scendere ancora un po'? No, non credo sia una buona idea. Guarda, io ho un altro fiorellino. Eccolo. Uh, due godo. Dammi qua. Uno e due. Perfetto. Per quello che mi riguarda, signore e signori, possiamo tornare a casa. La nostra... Eh, vabbè. Allora dillo che mi vuoi bene oggi, Minecraft. Che è successo? Eh, bello così. Così, sì. Così mi piace. Oh, buono. Buongiorno, signor Creeper. Ma tutto bene? La vedo un po' pacifico oggi. Ah, no, ecco. Muori un po'. Vogliamo dare un'altra occhiatina qui? Magari troviamo qualcos'altro? Sto quasi dammelo. Grazie. Eh, ma guarda come continua qui, eh. Non si fa molti scrupoli ad andare avanti. E anche a scendere un bel po', chiaramente. Però qui, la nostra attenzione, il nostro interesse è scema e non ci interessa, direi, proprio in generale. Quindi, possiamo tornare a casa come? Bellissima domanda. Direi che per capirlo non ci resta che provare a risadire. Verde qua ne abbiamo visto un bel po'. Non c'è niente altro che possiamo raccogliere. Abbiamo un nuovo Axolotl che possiamo usare per accoppiare con l'altro nostro. Ne abbiamo uno giallo, uno rosa. Direi che è una bellissima combo. E basta. Ora, come torno a casa? Eh, eh, bella domanda. Ok, il mio senso di orientamento, come al solito, funziona bene. A volte funziona meno bene, ne sono consapevole. Però oggi sembrerebbe... Eh, cala, l'ho detto. Oggi sembrerebbe star funzionando un pochino di più. Dove devo andare? Di qua. Allora, se questa è la zona in cui siamo arrivati, ciò vuol dire che se noi andiamo da questa parte, possiamo ricollegarmi un po'. Quello è un diamante. Top. Ma io, io non so come dirvelo, che la legge di Minecraft è una cosa seria. Cioè, più cerchi una cosa, più ne trovi altre. Anche importanti. Cinque diamanti questa run. Hai capito? Qua si può andare, ci interessa? Ma ti direi anche di no. Come torniamo in superficie ora? Facciamo un bel pillarone? Alla vecchia maniera? Alla vecchia usanza? Proviamoci. Facciamo un bel pillarone e torniamo alla nostra bella barchetta. E siamo contenti così. Ora voi vi chiederete perché, Surry, tu sei andato ad esplorare? Perché tu hai cercato quel fiorellino lì? È così che si muore. È così che si muore. Per fortuna non siamo morti. Ma è così che si muore. Giusto per inciso. Mettiamo una torcia qui prima di scavare. Così se cade della grave almeno siamo salvi. Non è che io abbia tutto questo cibo, tra l'altro. Facciamo così. Mettiamo una torcia sempre. A nostra tutela e protezione. Ok, ci siamo quasi. Ok. Forse da qui riusciamo a ricollegarci a questa similminiera. Andiamo di qua. Non, non, non. Sento rumori che non mi piacciono. Perché è un secondo a ritrovarsi un creeper in faccia qui, eh. E non è una cosa positiva. Ok, 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 ok. Siamo a casa. Cioè non è vero. Però siamo in dirittura d'arrivo. Ok, non voglio dire cavolate. Ma penso addirittura di sapere dove siamo. Forse siamo davvero accanto alla... Alla barca. Guarda. Dimmi di no. Eh, invece no. Però è lì? No, non è neanche lì. Dove cacchio non ho lasciato la barca? Forse di qua. Forse... 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 Forse un parolone. Eccola. Eccola qua. Che ti ho detto? Perfetto. Direi con molta calma e tranquillità torniamocene a casa. Questa è stata una missione proficua. Cinque diamanti. Tre Spore Blossom. E... Un nuovo Axolotl. Quindi a questo punto mi surge spontanea. La prossima avventura. Che poi avventura. La prossima quest. Che potremo completare. I nostri Axolotl hanno bisogno di un posto dove stare. Eh? Che possono stare in questi... Cioè sono belli felici lì nel secchiello. Guardali. Cioè non si muove. Un po' bloccato. Però per il resto mi sembra abbastanza felice. E fin qua ci siamo. Va bene. Siamo contenti così. Però mi piacerebbe anche vederli un po' sguazzare. Fare cose. Quindi potremmo creare... Allora nella mia testa originariamente. Come ho detto qualche episodio fa. Ci starebbe fare tipo una specie di enclosement. Una specie di capsula in cui inserirli. Però potrebbe essere anche un po' triste. Invece potremmo fare un qualcosa di un attimino più aperto. Se vogliamo. Sacrificare il ponte. O perlomeno non farlo come avevo immaginato. E partire da lì. Magari farei qualcosa con le ninfei. In modo che ci puoi saltare sopra. Non le ninfei queste qua. Le big drip leaf. Perché sono troppo fragili. Però se si può fare qualcosa invece con le ninfei. Quelle là che ci sono nella swamp. Direi che invece ci siamo a cavallo. Allora buttiamoci qua sotto nell'oasi paradisiaca. Un bel saltino. Ciao franchino da posto. Ciao Billy. Signore e signori. Prendiamo e mettiamo da parte. Con molta molta felicità. Ma non solo felicità. Anche 5 diamanti in più. Che prendiamo. E siamo di nuovo a 24. Come nell'altra puntata. Fantastico. Ora di questi tre. Uno lo prendiamo subito. E voglio provare a piazzarlo in un punto alto. Non saprei di preciso. Forse lì. Lì tipo. Sì. Lo voglio mettere lì. E lo metteremo lì. Che ti devo dire. Tipo qui che c'è un piccolo buccherellino. No. Forse più. No. Lì. Lo voglio mettere lì. Saliamo. Facciamo un bel pillarone. Con la Cobos. Intanto non abbiamo il piccone che funziona bene. Quindi non ce ne frega più. Molto. Si sale. Si sale. Si sale. Si sale. Si sale. Si sale. Tra l'altro queste stanno andando avanti all'infinito. Non hanno un limite a quanto pare. Quindi. Ci sta. Che. Possiamo bloccarne alcune. Per non. Cioè. Bisognerebbe tosarle. Praticamente. Con la roba che vi dicevo con le Shears. Piazziamone tipo uno. Qui. Qui potrebbe essere un buon blocco. O lì. Facciamo qua. Facciamo qua. Ecco. Voglio vedere fin dove arrivano. Queste spore. Cioè. Se è una cosa che ha senso. Tenere qui in alto. Oppure no. Cioè. Vediamo. Fin dove. Arrivano. Se. Giungono fino a terra. Eh. Mi sa che giungono fino a terra. Eh. Fantastico. Cioè. Guarda. Sarebbe da riempire allora. Sarebbe da metterne diverse. Lungo tutto il perimetro. E uno si trova con queste particelle verdi in giro. Eh. È devastante. Devastante. Guarda. Arrivano fino a qui. Bellissime. Bellissime. Va bene. Signore e signori. Per questo video è tutto. Noi ci vediamo. Domani. Alle 7. Con la prossima puntata di Minecraft Ita. Ciao. Truro. Tutti.